TORQUATO 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 non è che noi abbiamo detto il PD si è mai fatto scrupolo di sostenere ma non c'è niente di male nel senso che TORQUATO ha deciso di fare un percorso civico non penso che TORQUATO sia diventato di sinistra insomma siamo molto amici una persona a cui voglio bene non lo ha mai detto quindi no no ma invece lui lo sa e io so che è un sentimento ricambiato è una persona che stimo professionalmente che stimo come persona non credo che lui ha cambiato idea e nessuno glielo rinfaccia mi sembra giusto anzi fanno bene perché mica stiamo qui a fare la pulizia etnica sul piano culturale e ideologico perché c'è un progetto della città d'altro canto io voglio dire con la massima chiarezza io apprezzo nel complesso l'amministrazione TORQUATO nel senso il ruolo del sindaco forse magari su qualche assessore avrei qualche dubbio ma il sindaco è stato un buon sindaco ha fatto molto bene quello che lui sapeva fare meglio mettere in riga e a posto l'organizzazione comunale certamente è un sindaco che verrà ricordato bene dai cittadini ma anche da me sulle cose buone che ha fatte ne ha fatte tante certamente io sarò un garante che saranno seguite con continuità certamente il lavoro positivo svolto nell'amministrazione da Amaglio TORQUATO dal sindaco io mi sento di garantire che è una dichiarazione questa assolutamente quindi voglio dire se lui vuole continuità la garanzia gliela do io e può stare certo che questa amministrazione che sta a Romano ma insieme anche a Fratelli d'Italia tutte le cose buone fatte le farà continuare certamente non lo so se lo farà il candidato sindaco Di Maio la continuità questo è uno scoop che ci dà un'apertura a Torquato da parte della coalizione dello schieramento di Antonio Romano che in Fratelli d'Italia ha sempre la porta aperta perché è casa sua quindi voglio dire non c'è bisogno che lo dice Cilievi io mica sono il padrone della casa noi ufficialmente quindi non è vero che noi non compariamo ufficialmente sosteniamo Romano come Fratelli d'Italia faremo un simbolo molto simile al nostro ma rispettiamo la vocazione civica del comune che ci sembra una cosa logica io ovviamente Fratelli d'Italia non è che partecipa come cameriere nella coalizione di Romano